Amici, a parte lo spettacolo dell'orto che sta crescendo sono tutti soldatini, ma quello che voglio farvi vedere di bello è lo spettacolo che la natura ci offre la mattina quando i fiori delle zucchine e delle zucche sono tutti aperti. Guardate che belli, no? Sono fantastici. Poi la cosa più importante sono le api. Guardate qua, bellissimi fiori di zucca e di zucchina e qua possiamo vedere proprio come le nostre api sono tutte a lavoro, instancabili, è la natura che ci dà una mano quando la rispettiamo.